Al Mobile World Congress abbiamo incontrato dal vivo Nokia 808 PureView, un cellulare che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dei camera phone. Accanto alla piattaforma dual core arm e il sistema operativo Symbian, Nokia introduce infatti su questo terminale per la prima volta la sua tecnologia PureView. Nokia l'ha in cantiere da tempo ed è per questo che debutta su Symbian. La base della tecnologia è un sensore di grosse dimensioni, il formato di 1 su 1,2 pollici non solo è ben più grande della maggior parte dei cellulari, ma anche della gran parte delle fotocamere compatte, anche delle serie premium. Sulla superficie del sensore sono distribuiti 41 milioni di fotorecettori che possono essere sfruttati in modalità diverse. Utilizzandoli nel modo tradizionale possono offrire scatti da 38 e 34 megapixel a seconda delle proporzioni dello scatto. Ma la tecnologia nasce per altri scopi. Quello più interessante è sfruttare il pixel oversampling per eliminare il processo di demosizing tipico dei sensori con filtro Bayer. Ogni pixel finale dell'immagine è infatti formato da alcuni cluster di pixel sul sensore, sensibile quindi nativamente alle tre componenti della luce. La tecnologia promette inoltre prestazioni elevate in condizioni di scarsa illuminazione con una sensibilità nativa molto più elevata del normale e da ultimo la tecnologia mette a disposizione uno zoom digitale che non pregiudica la qualità dell'immagine. Le prime impressioni dal vivo sono davvero buone e speriamo di poter mettere presto alla prova sul campo la nuova tecnologia.